Chiara Ferragni smentisce le voci sul divorzio e sul mantenimento da 40.000 euro al mese, mentre Fedez rivela, relazione tossica. Nelle ultime ore, il mondo del gossip è stato travolto da una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web. Chiara Ferragni e Fedez sarebbero sul punto di divorziare su richiesta dell'influencer, che avrebbe chiesto una somma esorbitante di 40.000 euro al mese come mantenimento per i loro figli. Queste voci, iniziate a circolare dal sito di Linger News di Fabrizio Corona, hanno subito suscitato grande scalpore e preoccupazione tra i fan della coppia più seguita d'Italia. Tuttavia, Chiara Ferragni non ha tardato a intervenire per mettere a tacere tali speculazioni. Attraverso il suo avvocato, Daniela Missaglia, Ferragni ha smentito categoricamente tutte le indiscrezioni, diffidando chiunque dal diffondere ulteriormente queste false informazioni. In una dichiarazione ufficiale, l'avvocato ha precisato che non vi è alcun fondamento nelle notizie riguardanti la richiesta di divorzio da parte della sua assistita e la richiesta di mantenimento, definendo tali voci come mendaci e prive di qualsiasi base reale. Questa pronta risposta ha lo scopo di proteggere non solo l'immagine pubblica di Chiara Ferragni, ma anche la serenità della sua famiglia in un momento delicato. Parallelamente alla smentita ufficiale, alcune dichiarazioni di Fedez durante una diretta su Twitch hanno aggiunto ulteriore combustibile al fuoco delle speculazioni. Vediamo ora nei dettagli cosa è emerso dalle dichiarazioni ufficiali e dalle parole di Fedez, e cerchiamo di fare chiarezza sulla verità dietro queste notizie. La smentita dell'avvocato sul mantenimento e sul divorzio. Chiara Ferragni ha deciso di affrontare le voci infondate sul suo presunto divorzio da Fedez tramite il suo legale, Daniela Missaglia. L'avvocato ha diffuso una nota ufficiale in cui ha negato categoricamente tutte le indiscrezioni circolate in merito. L'avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni, si legge nella dichiarazione. Le indiscrezioni erano partite dal sito di Linger News, riconducibile a Fabrizio Corona, che aveva pubblicato la notizia di una richiesta di divorzio avanzata da Chiara Ferragni. Secondo il sito, l'influencer avrebbe chiesto a Fedez una cifra di 40.000 euro al mese come mantenimento per i loro figli. Tuttavia, l'avvocato Missaglia ha chiarito che queste notizie sono completamente infondate e prive di qualsiasi verità. La smentita ufficiale serve non solo a proteggere la privacy della Ferragni, ma anche a mettere fine alla diffusione di fake news che possono danneggiare la sua immagine e quella della sua famiglia. Le dichiarazioni di Fedez e la verità sulla relazione. Cosa ha detto? Mentre le ultime notizie venivano smentite dall'avvocato di Ferragni, alcune dichiarazioni di Fedez, hanno continuato a far discutere il web. Durante una recente diretta su Twitch, il rapper ha parlato apertamente della sua relazione con Chiara Ferragni. Era una relazione tossica, ha detto Fedez, spiegando di tollerare poco le persone che era costretto a frequentare. Non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o fare vacanza.